E' da una settimana che attende una degna sepoltura il corpo di una donna romena morta lunedì 17 giugno per un arresto cardiocircolatorio. Giace invece e ancora in una cella frigorifera del cimitero di Andria il corpo di Maria Dima classe 1950 nata a Casin nel distretto di Buzau in Romania. La 68enne fino a quel giorno ha svolto regolarmente ingaggiata il mestiere di badante di un'anziana donna di Andria. I sanitari del 118 ne hanno potuto solo accertare la morte quando sono intervenuti. I parenti dell'anziana assistita hanno informato allora il consolato di Romania, l'unico parente che gli uffici baresi hanno individuato, ha risposto di non essere nelle condizioni di sostenere i costi del trasferimento del corpo. Così il corpo dovrebbe essere a questo punto tumulato in Italia ad Andria dove si trovava attualmente, ma la denuncia di morte fatta al comune di Andria ha fatto emergere che la donna, benché residente in città, risultava irreperibile all'ente comunale dal 2017 e secondo gli uffici del comune non è possibile che l'ente si accolli i costi della tumulazione per una persona che si era resa irreperibile. Inoltre, essendo deceduta presso una privata abitazione, trovandosi ora il corpo in una cella frigorifera del cimitero di Andria, non ricorrerebbero le urgenze di carattere igienico-sanitario che in alcuni casi hanno spinto il comune a caricarsi dei costi di tumulazione, nel caso di morte di una polide per esempio. E neanche è il caso di una persona indigente, visto che si tratta di una donna che aveva un regolare contratto e un reddito da lavoro. Ciò che le è mancato è sicuramente l'affetto di qualcuno in vita che ne senta ora il dovere di farsi carico dei costi di tumulazione o di un semplice gesto di umanità da parte dell'ente comunale che deve sì fare i conti con le disponibilità economiche ma che non può di certo negare la dignità di una tumulazione.